Assessora alla cultura Antonella Piloni del comune di San Luri. San Luri legge 2021, un festival che quest'anno arriva alla quinta edizione, un'occasione d'eccezione, di promozione alla lettura, la lettura di qualità. Ma è come quest'anno abbiamo veramente bisogno di capire l'importanza del libro e della lettura. Sicuramente questo festival che è nato cinque anni fa, anno dopo anno è andato in crescendo. E' molto partecipato, crea grande emozione anche il fatto di avere questi ospiti in presenza, giornalisti, scrittori. Credo che il bilancio possa essere davvero positivo. Quando un'attività culturale è crescita, individuale, sociale, sicuramente l'obiettivo è raggiunto.